Benvenuti nell'Umbria, la gemma nascosta d'Italia. Immergetevi nella bellezza incontaminata della natura dell'Umbria, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Boschi, montagne e fiumi vi accolgono in un abbraccio sereno. Scoprite la ricchezza del patrimonio artistico e culturale dell'Umbria dalle chiesi affrescate ai teatri stori. L'arte è impressa nel DNA di questa regione, raccontando storie di secoli passati. Sperimentate i sapori autentici della cucina Umbra. Ogni piatto racconta una storia, unisce ingredienti locali per creare sapori uni. Dall'olio d'oliva al tartufo, ogni boccone è un'esplosione di gusto. Visitate le città medievali dell'Umbria, ognuna con la sua personalità unica. Spello, Perugia, Assisi, ognuna vi invita a esplorare le sue strade lastricate, le sue piazze vivaci, i suoi edifici stori. Fate un salto indietro nel tempo visitando le numerose rovine romane sparse in tutta l'Umbria. Questi antichi luoghi sono testimoni silenziosi di un passato lontano ma ancora visibile. Infine, rilassatevi nelle splendide strutture ricettive Umbri, dove l'ospitalità è un valore profondamente radicato. Dopo una giornata di esplorazione, nulla batte il comfort di una casa lontano da casa. Umbria, il cuore verde d'Italia La nostra avventura inizia tra le verdi colline dell'Umbria, ricche di storia e di bellezza incontaminata. Attraversiamo centri storici unici, dove l'arte e la cultura si fondono perfettamente. Scopriamo la cucina Umbra, autentica e ricca di sapori, un vero tesoro tutto da gustare. Esploriamo la natura incontaminata, tra laghi cristallini e boschi rigogliosi, un vero paradiso per gli amanti del trekking. Visiteremo le famose cantine Umbri, degustando i migliori vini locali e scoprendo antiche tradizioni vitivinicole. Concludiamo il nostro viaggio con un tramonto mozzafiato, che colora di rosa le dolci colline dell'Umbria. Umbria, il cuore verde d'Italia, un viaggio indimenticabile nel cuore del bel paese. Crea un finale da film.